Mi chiamo Carl Fitzpatrick, sono di origine Inglaterra, ho un'azienda agricola a Bosa, mi chiamo Bosa Land, ho un'azienda di 4 ettere, la mia attività principale è l'allevamento di asini. Perché hai deciso di partecipare a Inparis? Questo corso è la seconda cosa che abbiamo partecipato in Sardegna, il primo è un percorso di fattori didattica che ho trovato molto utile, l'agricoltura sociale secondo me è molto abbinata con le fattori di fattori didattica. E che cosa ti ha lasciato in Paris? Questo percorso ha lasciato un bel po' di materiale molto stimolante, è una base di studio molto utile secondo me. Cosa hai imparato dall'esperienza di viaggio in Toscana? È difficile da enumerarsi tutti i vari aspetti, è molto molto interessante e soprattutto da vedere le aziende in operazione. E cosa ti ha colpito positivamente delle realtà visitate? E soprattutto che l'agricoltura sociale è una cosa chiaro che potete anche fare in Sardegna.